intanto vi auguro una buonissima serata e sono felicissima di essere di nuovo con voi oggi l'argomento è veramente hot proprio per viste le temperature di questa stagione e parliamo di come affamare il tumore la scorsa volta abbiamo parlato di che cosa lo nutre siamo andati a vedere passo a passo questa volta invece andiamo a vedere come affamarlo quello che volevo fare appunto per chi è nuovo dalla mia conoscenza intanto è presentarmi in modo tale che faccio un recap e poi andiamo dritti dritti agli argomenti perché sono veramente tanti 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 e appunto vorrei comunque stare nell'ora io mi chiamo Ethel Cogliani sono uscita dall'università come biologa molecolare e diciamo che la mia idea era quella di voler aiutare le persone stare bene e senza malattie come biologa molecolare credevo nella genetica quindi nell'elaborazione diciamo di quella che era la nostra struttura genica per salvarci dalle malattie in realtà quello che ho scoperto con il tempo che oltre alla genetica c'era anche un'altra branca della scienza in realtà molto più potente della genetica nell'aiutarci che è l'epigenetica e io lì praticamente mi sono buttata a capofitto e mi ha aiutato praticamente a trovare quella che era dapprima la strada per aiutare mio figlio che aveva una sindrome di Tourette che appunto non si riusciva a risolvere e io intanto ho risolto la sua come si dice il mio percorso è iniziato per un puro scopo personale e poi praticamente ho diciamo cercato di applicare quello che era l'approccio alla ricerca che avevo imparato in laboratorio alla pratica clinica scontrandomi chiaramente con tutta una serie di problematiche che però mi hanno portato a dirvi cosa vi ho detto la scorsa volta e cosa vi dirò oggi diciamo che l'epigenetica io la definisco l'elefante nella stanza perché? perché è quella cosa che è talmente grande che non siamo in grado di vederla cioè sono quelle correlazioni microscopiche delle nostre abitudini dell'ambiente che ci circondano che noi non riusciamo siamo talmente impregnati di questa cosa che non riusciamo a vederli e quindi diciamo che noi andremo dentro questa cosa qui e cercheremo di capirla e utilizzare gli strumenti quindi in modo estremamente pratico per aiutarci ora quello che è di solito l'errore dell'approccio alla malattia è il fatto che l'approccio farmacologico non venga mai affiancato in realtà ad un approccio antropologico questo in realtà questo abbinamento tra farmacologico e antropologico genera quello che io chiamo il processo di autoguarigione che è un qualcosa che per noi sembra quasi magico ma in realtà sta dentro di noi e questo ne abbiamo già parlato la scorsa volta e abbiamo anche detto qual è il processo alla base dell'autoguarigione che è praticamente il controllo di tutto la sfera del sistema immunitario e quindi della cascata infiammatoria e poi siamo andati a vedere come nasce il tumore ok quindi per chi ha visto la scorsa cosa poi se lo va a rivedere ho mandato già tutte quante le slide e tutto quanto e come in realtà si può intervenire perché in realtà io mi piace molto la teoria ma mi piace anche molto la pratica perché? perché in realtà siamo pieni di un mondo di teoria ma in realtà poi alla fine quando uno dice e quindi che cosa devo fare per aiutare il mio corpo a stare bene quando si fa questa domanda in realtà le risposte sono abbastanza lacunose e spesso poco pratiche quindi abbiamo detto che ci sono degli strumenti e noi la scorsa volta abbiamo visto la corretta alimentazione questa volta vedremo il digiuno e abbiamo visto che ci sono anche degli altri strumenti che ci possono aiutare di biohacking che possono essere di supporto al nostro corpo e quindi alla fine proprio della nostra della scorsa presentazione abbiamo visto quali sono qual è l'alimentazione che dobbiamo evitare e l'alimentazione che invece dobbiamo fare in modo che sia parte della nostra quotidianità in questa slide che cosa dobbiamo vedere in particolare questo che ha sottolineato il fatto la contrapposizione tra il mangiare in continuazione che è tipico della nostra società 5-6 volte al giorno e i due pasti al giorno che invece sono il massimo che dovrebbe ricevere il nostro corpo e noi partiremo da qui da quello che è un falso mito che si dice che praticamente ad esempio se non si fa colazione si muore se non si mangia ogni 2-3 ore rischi problemi glicemici metabolici e quant'altro in realtà tutte queste indicazioni che dal mio punto di vista e non solo il mio punto di vista diciamo personale ma dal punto di vista di ricercatrice e di studiosa di questa materia in realtà sono assolutamente contrari a quelle che fisiologicamente sono le basi alle quali noi dovremmo attingere per stare realmente bene quando si parla di due pasti al giorno dovrebbe essere il massimo che noi dobbiamo assumere quindi da due pasti al giorno in meno ok quindi la colazione pranzo e cena già siamo con un pasto in più giusto per farvi capire adesso voglio mettere entriamo proprio nella presentazione di oggi ok quindi che cosa andiamo a vedere oggi cosa accade quando smettiamo di mangiare quando e come è meglio introdurre il digiuno ma soprattutto cercheremo di rispondere alla grande domanda che il digiuno il digiuno va sempre bene per guarirci queste qui sono le tre grandi domande alle quali risponderemo in questa presentazione ora una delle cose fondamentali da considerare è appunto questa grande domanda che nessuno si pone quando in realtà mi chiedono dottoressa ma per il mio caso è utile che io faccia questo ma va bene questo in realtà la domanda è a che punto siamo cioè nel senso a che punto della nostra vita della nostra energia della nostra malattia ok siamo rispondere a questa domanda per rispondere a questa domanda io mi avvalgo di questa curva per chi non la conoscesse ok è una curva abbastanza famosa ma per chi non la conoscesse viene dalla medicina ameriana o la nuova medicina germanica è la curva bifasica della malattia questa curva in realtà spiega tutto riguardo a quello che è l'andamento della malattia all'interno di qualsiasi corpo ok ve la spiego in modo da uniformare la platea la conoscenza in modo tale che non nessuno rimanga indietro praticamente questa curva prevede un andamento diciamo variabile nel tempo tra una situazione di vagotonia che vuol dire di rilassamento e una situazione di simpaticotonia che vuol dire di attivazione del nostro sistema nervoso autonomo ok che è quello preposto praticamente alle risposte funzionali e di sopravvivenza del nostro corpo nella fase di normotonia diciamo noi la possiamo chiamare la salute la salute piena la salute stabile la salute in equilibrio ok che quindi si alterna in modo armonioso tra una situazione di attivazione e una situazione di relax ok cosa rompe questo equilibrio è quello che Hammer definisce DHS DHS vuol dire sindrome di Dirk Hammer ok o noi possiamo chiamarlo in modo diciamo un po' più un po' meno tecnico trauma ok un trauma per lo più si parla di psicologico ok che viene letto dal nostro corpo in modo tale per cui si sviluppa un programma sensato biologico che ci fa che fa passare la la stimolazione del nostro sistema nervoso autonomo attraverso due fasi la fase attiva e la fase di post conflitto lisi la fase attiva è quella che è la malattia vera e propria quindi va pregamente dall'istauramento del trauma alla conflitto lisi quindi alla risoluzione del trauma ok quindi poi successivamente la post conflitto lisi noi possiamo chiamarla la guarigione il processo di guarigione questo processo di guarigione non è un processo leggero è un processo drammatico che passa attraverso quella che viene chiamata crisi epilettoide la crisi epilettoide diciamo è la crisi del tutto o niente cioè nel senso o ritorniamo all'equilibrio della salute o moriamo cioè questo qui praticamente noi decidiamo il corpo decide che qual è il suo futuro quindi in realtà quando io parlo da che punto partiamo è molto importante sapere se noi siamo qui se noi siamo qui o se noi siamo qui o se noi addirittura siamo qui per decidere quale strumento utilizzare per sopportare il nostro corpo perché se è vero che il digiuno è meraviglioso in questa fase è meraviglioso in questa è estremamente efficace in questa in realtà potrebbe addirittura diventare controproducente se noi lo andiamo ad attivare nella fase della crisi epilettoide un'altra considerazione che è importante fare quando si parla di digiuno ma in realtà quando si parla di qualsiasi strumento è considerare anche qual è il livello di energia presente all'interno del nostro corpo normalmente noi consideriamo vita tutto quel lasso di tempo che va dalla nostra nascita alla nostra morte ok noi chiamiamo vivere in realtà ci sono diverse considerazioni rispetto a questo vivere in realtà ci sono diversi livelli il primo livello diciamo che andiamo a considerare è il sopravvivere che è semplicemente un bilanciamento perfettamente a zero tra le energie in entrata e le energie in uscita cosa vuol dire questo che se noi entra 100 noi spendiamo 100 e ci rimane zero ok cosa vuol dire sopravvivere vuol dire che se arriva un'emergenza imprevista e non non abbiamo le energie in realtà il nostro sistema crolla completamente poi abbiamo una una condizione di vita che in realtà è di morte ok dici ma in che senso di morte diciamo che io la chiamo anche di accanimento terapeutico ok una condizione nella quale non siamo in grado di sopravvivere senza tubi senza macchinari senza farmaci nel momento in cui noi stacchiamo qualcosa in realtà noi siamo morti essenzialmente questa cosa è una totale dipendenza del nostro corpo da fonti energetiche esterne tanto che il nostro corpo in realtà se entra 100 ok in realtà sperpera 200 e quindi si ritrova sempre con un debito rispetto all'ambiente esterno diciamo che è un po' come lo scoperto di conto per quanto riguarda i conti bancari è la stessa cosa e poi c'è una condizione che ho chiamato di supervivere ok che è una condizione tale per cui a noi ci entra 100 noi però siamo bravi e spendiamo che non so 80 60 50 a livello energetico e noi diciamo quel plus di energia che noi riusciamo a mettere da parte farà parte di quel salvadanaglio energetico di quell'assicurazione energetica che noi possiamo usare in caso di emergenza ora sommando la precedente diapositiva a questa ok noi abbiamo due informazioni dobbiamo sapere in quale fase della malattia ci troviamo e quante energie abbiamo per affrontarla allora solo dopo siamo in grado di capire se il digiuno o qualsiasi altro strumento che abbiamo deciso per supportare il nostro corpo sia utile o no per la nostra salute ora sempre per comprendere realmente che cosa vuol dire affamare il tumore ok dobbiamo capire alcune cose molto molto basiche ok in realtà non c'è bisogno neanche troppo di una laurea ma c'è una c'è bisogno di un'apertura mentale molto grande perché in realtà viene detto molto eh cioè si approccia alle malattie in modo completamente diverso rispetto a quello che normalmente come di quello che dovrebbe essere l'approccio alle malattie e qui diciamo che dobbiamo in qualche modo riscrivere tutte le nostre credenze ok quindi per comprendere come affamare il tumore noi dobbiamo sapere queste due cose che il 70% del sistema immunitario risiede nell'apparato digerente questo che cosa vuol dire che se noi stiamo perennemente a digerire noi praticamente impegniamo costantemente un macchinario impotente come il sistema immunitario nel processo digestivo e questa cosa chiaramente lo distrae da tutte le cose meravigliose che potrebbe fare per salvarci in più l'altro parametro che ci serve per capire come affamare il tumore è questo che la digestione è un processo più dispendioso che avviene nel nostro corpo cosa vuol dire vuol dire che se noi intuidiamo una qualità e una quantità di energia proveniente dal cibo o da qualsiasi altra cosa noi facciamo che è inferiore rispetto all'energia necessaria per il nostro corpo per estrarre l'energia dal cibo in realtà noi entriamo in deficit energetico ora mi fermo un secondo fino a qui ci siete io considerate vi ricordo che non vi vedo quindi datemi una voce si si vai vai si si seguite ok ci tengo moltissimo che voi mi seguiate sempre mi raccomando perché l'argomento è delicato e non è proprio intuitivo quindi dovete esserci stare sul pezzo approfitto per chiedere una cosa quest'ultima cosa che lei ha spiegato non mi è molto chiara questo fatto del dispendio energetico quindi dobbiamo mangiare di meno per per allora tu c'eri la scorsa volta eh no purtroppo è la prima volta che ok nessun problema nessun problema allora la scorsa volta a parte io adesso ho appena caricato la presentazione anche su youtube quindi eventualmente ti invito ad andarla a recuperare sul mio canale ok però la scorsa volta ho parlato di quantità e qualità energetica del cibo ok in realtà spesso noi mangiamo del cibo estremamente energetico ok ma incapsulato in tutta una serie di antinutrienti che rendono difficoltoso il nostro corpo di attingere a quell'energia ok ok e quindi chiaramente se il nostro corpo ci impiega troppo di energia per prendere energia in realtà praticamente spende di più di quanto acquisisce ok ok ci sei allora ora come alimentare il tumore quindi perché noi abbiamo stiamo giocando a capire come affamare e come alimentare noi dobbiamo piano piano allinearci in realtà un modo per alimentare il tumore è impegnare costantemente il nostro apparato digerente in una perenne digestione ok quindi abbiamo fatto la somma della diapositiva precedente abbiamo diciamo compreso cosa vuol dire alimentare il tumore ok ora se vi ricordate la scorsa volta abbiamo parlato delle tre funzioni principali fondamentali del nostro corpo che abbiamo detto che era la pulizia regolare il rinnovo costante la difesa e che mentre i primi due erano diciamo le funzioni base del nostro corpo quello di difesa è in realtà una condizione che era determinata da uno stato di allerta perenne ora vi chiedo e qua voglio che qualcuno mi risponda perché così vedo se siete allineati digerire in continuazione in quale stato fa stare il corpo di difesa di difesa stato di allerta ok ok quindi siamo d'accordo sulla base di tutte le informazioni che abbiamo ricevuto fino adesso che possiamo definire una perenne digestione un costante stato di allerta del nostro corpo per cui noi mangiando in continuazione andiamo a eliminare la pulizia regolare e il rinnovo costante ok che sono alla base del processo di autoguarigione ok ora quello che succede quindi mangiando in continuazione è questa roba qua che qua abbiamo una bellissima cascata infiammatoria che normalmente andrebbe all'apoptosi smistamento smaltimento riparo eccetera eccetera rinnovo dei tessuti ma che si blocca perché gli mancano le funzioni base che normalmente vengono espletate dal sistema immunitario perché perché è distratto dalla digestione non solo da quello adesso stiamo parlando del digiuno quindi stiamo parlando di questo ma in realtà poi vediamo che il discorso del digiuno si può allargare in altre sfere che non sia soltanto l'alimentazione quindi noi quello che dobbiamo fare è questo passare da lo schema di sinistra allo schema di destra che differenza c'è qua c'è una cascata infiammatoria totalmente disorganizzata in cui noi praticamente diamo input a casaccio ok e speriamo che questa funzioni ok qua situazione di sinistra situazione di destra che cosa abbiamo abbiamo una cascata infiammatoria nel quale noi che noi andiamo a inserire in una serie di azioni consapevoli con una serie di strumenti consapevoli per il quale noi riusciamo a modulare il sistema nervoso autonomo i nostri sistemi ormonali la nostra digestione apparato digerente i nostri livelli di delle varie micro e macro molecole del corpo semplicemente andando a utilizzare pochi strumenti estremamente funzionali e naturali che vanno praticamente un po' come un'orchestra a sistemare le cose nel giusto ordine oggi noi appunto come già vi ho detto parleremo del digiuno ok è lui lui se vedete da questo schema praticamente interviene su praticamente tutte le funzioni del corpo ok sia nell'aiutare il nostro corpo a regolare il sistema nervoso autonomo sia a regolare a livello ormonale sia a regolare a livello digestivo e metabolico sia a regolare tutte quelle che sono le funzioni di attivazione e di distruzione di rinnovo dei tessuti e quindi in qualche modo è un coordinatore Uber-Allef essenzialmente che se noi lo mettiamo in mezzo ai nostri strumenti che noi stiamo attivando per la nostra guarigione in realtà lui riesce a ottimizzare tutti i processi in modo sempre più efficace man mano che noi lo portiamo avanti chiaramente non è mai one shot già vi faccio lo spoiler ma non è mai ah ho fatto il digiuno basta ok il digiuno è come pulire casa se non la pulisci tutti i giorni poi si sporca ok quindi non è che dice uno eh io faccio ho fatto un digiuno dieci anni fa ormai ho lasciato il tempo che trova ok questo qua giusto per essere precisi che tutti gli dicono ah l'ho fatto però non ha funzionato ma non è che funziona ok bisogna farlo funzionare come ogni cosa ora come affamare il tumore intanto tutti quanti mi chiedono Eter cosa succede quando smettiamo di mangiare e iniziamo a guarire questa è la grande risposta ok cioè nel senso in realtà le persone pensano che il digiuno sia smettere di mangiare in realtà la vera magia del digiuno inizia non quando smettiamo di mangiare cioè nel senso non è nello smettere di mangiare che si fa il digiuno ma è tutto ciò che fa il corpo quando noi non stiamo mangiando quindi il digiuno è tutta quella roba lì non è io ho smesso di mangiare allora sono in digiuno no tu hai smesso di mangiare allora il corpo sta prendendo tutte le risorse che prima erano incapsulate nel processo digestivo e le sta orientando in altre funzioni ok quindi diciamo che il digiuno non è solo smetto di mangiare c'è qualcosa dietro quindi bisogna capire che cosa fa il digiuno in modo tale da sostenere il corpo in ogni fase del digiuno le vedremo tutte quante ok in modo tale che le faccia nel modo più efficiente possibile ora cerchiamo di capire il digiuno ok come i vari studi hanno approfondito la sua importanza come sono arrivati a capire alcune cose e diciamo che adesso vi farò una carrellata di studi tra cui io sono sicura che voi conoscete Walter Longo ok lui fece in particolare due esperimenti consecutivi ok il primo ve lo descrivo ok prende due gruppi di topi uno che mangiava in continuazione ok come la popolazione umana occidentale e uno che invece digiunava poi che cosa hanno fatto l'hanno inoculati con un chemioterapico ok e che cosa è successo mentre il primo gruppo praticamente è morto essenzialmente il secondo gruppo non solo era guarito dal sarcoma perdonatemi me l'ho dimenticata i topini avevano il sarcoma non solo erano guariti ma avevano anche un grande sistema immunitario estremamente funzionale e bilanciato la differenza era soltanto il digiuno tra questi due gruppi di topini poi Longo si è fatto una domanda dopo questo esperimento dice ok ho capito che il digiuno ha fatto sopravvivere il gruppo di topi numero due dice ma perché l'ha fatto cioè come ha fatto cioè come ha fatto a fare ciò che ha fatto questa qua era la grande domanda che si è fatto Longo allora lui ha detto adesso io rifaccio l'esperimento estraggo delle cellule dei topi delle cellule normali e delle cellule cancerose ok e le metto al microscopio diciamo ok prendo i loro geni e vedo quali si esprimono quali no eccetera eccetera cosa ha visto una cosa plateale che potete vedere qui ok diciamo che potete vedere che le bande di geni attivate nelle cellule normale sono perfettamente opposte rispetto alle bande di geni attivate rispetto delle cellule cancerose questo cosa vuol dire che il pool di geni ok che si esprimono sono contrari vuol dire che durante il digiuno la cellula normale e la cellula cancerosa vengono in qualche modo spittate divise metabolicamente per cui un set di geni si esprime nelle cellule normali mentre un altro set si esprime nelle cellule cancerose successivamente a questo esperimento wow ok dice ho capito il digiuno come fa a fare ciò che fa essenzialmente un altro ricercatore David Sinclair stavolta dice ok io devo capire però quali sono i geni che si esprimono nelle cellule normali quali sono i cambiamenti che fanno sì che le cellule normali sopravvivano mentre quelle cancerose riescono a morire eccetera eccetera tra i vari geni tra i vari cambiamenti che ha visto ha visto che le cellule sane hanno una produzione enorme di NAD+, che è un metabolita che esprime praticamente che le cellule sono in salute essenzialmente e praticamente questo metabolita diventa un segnalatore della salute della cellula e questo segnalatore della salute della cellula praticamente attiva geni come quelli delle sirtuine ad esempio che servono a creare una protezione della cellula per cui praticamente le cellule sane rimangono protette e mentre poi vedremo in realtà cosa accade alle cellule malate alcuni studi stavolta si parla di circa 45 anni prima rispetto agli studi di Longo in realtà passando tra l'altro dall'America alla Russia abbiamo degli studi estremamente potenti che fanno capire una cosa importante io vi spiego l'esperimento e poi vi farò la domanda e qualcuno dovrà rispondere su che cosa si deduci da questo esperimento allora ve lo descrivo di nuovo i topini neri sono quelli nutriti quelli grigi sono quelli in digiuno ok il primo gruppo è questo topini che mangiano sempre inoculazione del tumore zero sopravvissuti quindi tutti i topolini muoiono inoculazione del tumore mentre i topini stanno mangiando topini messi in digiuno sopravvivenza dei topini 30% topini mangiano topini vengono messi in digiuno il tumore viene inoculato durante il digiuno topini sopravvivono al 50% topini messi in digiuno riportati all'alimentazione tumore inoculato quando il topino è ripreso a mangiare sopravvivenza del 100% ora a voi questo esperimento cosa ci sta dicendo vai come al solito io non metto voti forse che il digiuno diciamo rafforza il sistema immunitario e quindi il sistema immunitario riesce a battere a vincere sulla malattia sì assolutamente sì un altro passaggio ancora che è molto sottile e quando poi il topino ricomincia a mangiare ormai il suo sistema immunitario si è rafforzato e quindi sopravvive ok sì 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 no va bene vanno benissimo entrambe le risposte ma c'è un passaggio ulteriore che voglio che vorrei provare a vedere se riuscite ad arrivarci vanno bene entrambe le risposte in realtà dice tutto questo questo esperimento ma c'è un'altra cosa che è fondamentale che io voglio che venga sottolineato quando funziona meglio il digiuno quando ammazza con il processo della pop 2 si vengono a morire le cellule malate diciamo no no questo esperimento funziona meglio quando si sta bene aspetta non l'ho sentito funziona meglio quando si sta bene esatto quindi ci siamo quasi arrivati e quindi è preventivo esatto ci siamo arrivati allora il digiuno funziona funziona sempre l'avete visto cioè nel senso andare in digiuno comunque ti dà una percentuale maggiore di sopravvivenza del 30% del 50% ma fatto in prevenzione ti garantisce la salute al 100% dici che esagerazione ma che cosa fa perché lo fa perché una cosa che in pochi sanno è che nel nostro corpo ogni giorno si generano cellule tumorigene cellule danneggiate e quant'altro ogni giorno ce n'è una due cento tante ok considera che abbiamo milioni di cellule quindi è chiaro che anche fossero una decina sono pochi ok che magari si rompe il meccanismo quindi ogni giorno il nostro sistema immunitario prende queste cellule prende le pulisce le butta al macero e non diventano tumori ok quindi in realtà il il digiuno scusatemi genera un meccanismo di pulizia regolare prima cosa ma poi stimola dei meccanismi adattativi per cui praticamente il tumore viene gestito in modo efficiente e non come una cosa di emergenza ok quindi viene gestito come qualcosa di routine e non come emergenza e quindi c'è la piena efficienza e la massima sopravvivenza dei topini e chiaramente anche delle persone ok quindi questa cosa questa qui l'hanno scoperto negli anni settanta settanta ok poi vabbè la Russia è crollata cose varie tutti questi studi sono in cirillico quindi non sono mai passati da noi ok ringraziamo Longo perché in realtà ha ripreso l'importanza del digiuno e tutto il resto ma la cosa importante è questa il digiuno funziona meglio in prevenzione quindi quando è il momento in realtà migliore per iniziare a fare il digiuno adesso anzi ieri ok in realtà prima si inizia meglio è ora andiamo alle fasi del digiuno il digiuno è importante conoscere nelle fasi perché ogni fase ha le sue criticità ogni fase ha la sua importanza e ogni fase deve progredire secondo determinate regole se non progredisce attraverso determinate regole in realtà noi facciamo un digiuno con un'efficacia inferiore e quindi ne riduciamo le potenzialità ora la prima fase del digiuno che orientativamente va dall'ora zero fino a 16 18 20 ore è quella che viene chiamata la fase 1 l'alimentazione esogena cioè che cosa vuol dire il nostro corpo continua a digerire e a mangiare quello che in realtà deriva dal nostro ultimo pasto ok quindi in realtà ancora non si può neanche chiamare digiuno ok quello che noi chiamiamo digiuno intermittente in realtà il corpo ancora sta usufruendo delle risorse esterne quindi ancora non è il digiuno proprio quello che viene chiamato il digiuno terapeutico ok in questa fase qua noi abbiamo una una metabolismo strettamente glucidici ok ma si comincia ad attivare piano piano il meccanismo dei grassi ok che è questa curva qui mentre la curva delle proteine come vedete piano piano si scambia con la curva dei grassi e piano piano tende a scendere ok mentre quella dei grassi continua ad aumentare questo innalzamento della quantità di grassi disciolti nel nostro corpo che si chiamano chetoni ok a livello del circolo genera una fase che a molti terrorizza perché unisce due parole che ci spaventano crisi acidotica quindi crisi ok dice oddio santo che cosa vuol dire vuol dire che mi sento male che tutto quanto si rovina il mio corpo eccetera eccetera e poi acidotica acidotica perché l'acido no oddio santo parlano tanto di alcalinizzazione allora se si acidifica vuol dire che il corpo si sta ammalando no sono processi funzionali e hanno uno scopo importante in realtà la magia del corpo si innesca proprio nella fase due del digiuno la crisi acidotica che cos'è ok quindi spatiamo il mito che sia una cosa brutta ok ma è semplicemente uno spostamento ok l'abbassamento del pH all'interno del range fisiologico quindi comunque quel pH rimane in fisiologicità ok si sposta leggermente in basso questa cosa qui questo abbassamento del pH genera la divisione metabolica che abbiamo visto negli esperimenti di lungo ok è questa crisi acidotica che permette la separazione netta metabolica funzionale e anche dei processi che si attiveranno sulle singole cellule se la cellula è sana se la cellula è malata diventa una chirurgia cellulare e solo se avviene questa fase qui nel modo in cui il corpo vuole che la fa che cosa vuol dire questo vuol dire che se noi prendiamo dei sali minerali per evitare l'acidificazione in realtà noi stiamo interrompendo il lavoro del corpo ok quindi la crisi acidotica deve essere portata in modo tale che ci sia questo abbassamento che ci sia questa selezione cellulare la fase 2 chiaramente transita in modo fisiologico e spontaneo nella fase 3 di alimentazione endogena cosa vuol dire vuol dire che l'accumulo di chetoni non va all'infinito cioè non è che poi moriamo ok perché in realtà di giuro non si muore ok a meno che io chiaramente non lo portate fino alla fase patologica ma non stiamo parlando di quello praticamente che cosa succede alla fine della crisi acidotica praticamente il corpo comincia a consumare i chetoni tant'è che noi nella prima fase del digiuno nella fase 1 nella fase 2 ci sentiamo un po' scarichi in realtà nel momento in cui il corpo comincia a bruciare i chetoni ci sentiamo anche energici molto più energici magari di quando in realtà stavamo ancora mangiando dice che cosa sta succedendo stiamo iniziando a digerire le nostre riserve di grasso ok e stiamo iniziando a digerire le nostre cellule ok malate cose varie quindi noi stiamo prendendo tutto lo sporco diciamo lo stiamo un po' come gli inceneritori ok lo stiamo praticamente utilizzando come energia per il nostro corpo la fase 3 transita sempre naturalmente attraverso verso la crisi terapeutica la crisi terapeutica è un'altra crisi si chiama così come la prima come la fase 2 perché ci possono essere dei peggioramenti delle condizioni dice ah ma io fino fino a che ne so fino alla fase 3 io mi sentivo bella energica cosa è varie adesso mi sento scarica mi sono tornati tutti i dolori che cosa sta succedendo ok in realtà praticamente il corpo semplicemente ha preso tutte quelle cellule che sono state selezionate nella fase 2 dalla crisi acidotica e le sta portando al macero quindi sta facendo tutto il lavoro di rimpiazzo ribristino cosa un sacco di lavoro ok alla fine di questa crisi terapeutica che dura diciamo dipende dal tipo di digiuno diciamo che se parliamo del del digiuno secco quindi senza anche senza acqua diciamo che dura fino a 12-13 giorni ok dopodiché praticamente si va nel digiuno patologico per il digiuno idrico si può proseguire anche oltre i 30 giorni ok che cos'è il digiuno patologico è quando abbiamo tirato troppo la corda cioè quando praticamente non abbiamo ascoltato il corpo e i segnali del corpo per cui siamo andati oltre il digiuno patologico è l'unico veramente pericoloso ok addirittura i russi avevano calcolato per il digiuno secco che ci volevano 15 giorni per una persona alta 1,75 m di 75 kg ok quindi diciamo che ci vuole tanto cioè quando uno dice ah dopo 3 giorni che non bevi non mangi muori non è vero cioè arrivaci a 15 giorni è difficilissimo ok quindi in realtà per arrivare al digiuno patologico bisogna impegnarsi e anche tanto ok diciamo che quando uno si spaventa ah ho fatto qualche ora di digiuno morirò no ok una cosa che vi voglio far osservare da questo schema è questa cosa qua queste due linee che ho messo in questo schema la linea rossa è dove normalmente interrompiamo quando si parla di digiuno intermittente ok e questa linea blu invece è dove parte potenzialmente la crisi acidotica ancora una volta mi fermo e vi chiedo che cosa notate su sbilanciatevi questo è dove terminiamo il digiuno intermittente e qui è dove parte la crisi acidotica su almeno una risposta poi in caso tantunque ve lo dico non è un problema pare che la crisi acidotica parte prima del digiuno intermittente parte dopo è quella blu la crisi acidotica esatto esatto questa è la crisi acidotica il digiuno intermittente si interrompe prima quindi quando uno mi chiede Ethel ma se io faccio il digiuno intermittente va bene per risolvere i miei problemi di salute la risposta no va bene per dimagrire va bene per disinfiammare un po' ma se vuoi risolvere dei problemi di salute già conclamati non lo risolve ok questa cosa è molto importante perché sennò se uno non lo vede non si capisce ma perché dice che il digiuno intermittente non sa perché partono dopo i meccanismi ok non partono a 16 ore 20 ore e quant'altro partono molto dopo le 24 ore 30-32 anzi la crisi acidotica in base al tipo di alimentazione che uno ha al tipo di digiuno che uno fa può partire da il giorno e mezzo ai 5 giorni quindi vuol dire che questa linea potenzialmente può anche arrivare qua ok quindi diciamo che uno deve sapersela giocare bene le proprie risorse sapere quanto ha appunto nel proprio corpo e da che punto parte ok considerazioni le prime considerazioni che abbiamo fatto è fondamentale se no dice non capisco perché non ha funzionato qua vi sto spiegando tutto del perché può funzionare perché è figo e perché non funziona il più delle volte ma perché non vengono fatte le considerazioni giuste ora che cosa fa il digiuno abbiamo detto io vi avevo detto che cosa faceva per le cellule sane ma mi avevo detto che vi avrei detto anche cosa facevano le cellule malate ok quello che succede è che crea appunto un cambio metabolico per cui praticamente le cellule malate in realtà non hanno tutto questo NADH questo NAD più ok in realtà questo qua porta a una selezione cellulare che abbiamo visto che di espressione genica tra i geni che vengono espressi nelle cellule cancerose ci sono dei geni recettoriali che permettono praticamente il flip della fosfa di dilserina che è un un fosfolipide della membrana della cellula che praticamente passa dallo strato interno della membrana a quello esterno questa cosa qui genera praticamente una sorta di riconoscimento ok quindi le cellule vengono riconosciute per la presenza di questa fosfa di dilserina sulla loro superficie vengono riconosciute da chi? da alcuni linfociti ok che si attaccano dei recettori e questo innesco tra i linfociti e i recettori praticamente innesca tutta una serie di distruzioni degli organelli e cose varie e si crea il corpo apoptotico il corpo apoptotico praticamente è una cellula morente essenzialmente che viene mangiata ok dai macrofagi questi macrofagi praticamente che cosa sono delle cellule che si mangiano altre cellule e poi quello che è buono lo vanno a smistare alle cellule sane quello che non è buono lo prendono e lo buttano ok e questo è quello che succede alle cellule malate quindi abbiamo visto tutte e due ora qual è una delle caratteristiche fondamentali del digiuno per comprendere perché alcune volte non funziona e perché in realtà quando funziona funziona la grande che è questa il digiuno attiva le risorse sopite del corpo ma non crea dal nulla risorse che non ci sono ok questa cosa è molto importante perché perché se noi ci troviamo già in una condizione di mancanza energetica vi ricordate no sopravvivenza morte supervivere no se noi ci troviamo già in una condizione di di assenza di energia dipendiamo totalmente dall'esterno il digiuno ci può aiutare? no risposta bravissima ok cioè in realtà ci aiuta ma non come vorremmo cioè nel senso ci aiuta a transitare più velocemente verso la morte ok quindi diciamo dipende ok quindi diciamo poi è colpa del digiuno sono morta per colpa di me ok in realtà la risposta non è come pensiamo ok ora quindi diciamo torniamo a questa curva non possiamo intervenire quando siamo qua stiamo d'accordo? posso fare una domanda? sì prego ok allora io dopo l'intervento e la radioterapia ho perso tanto peso peso 39 kg e quindi sono molto sotto peso quindi per me una cura del genere immagino che non possa essere potenziata allora hai ragione bravissima hai compreso la cosa diciamo che in caso nel tuo caso si approccierebbe prima a una diciamo un'alimentazione stabile che ti aiuti a riprendere peso con delle integrazioni che comunque stimolano il sistema immunitario e quant'altro e poi se il tuo corpo è in grado di gestirlo si introduce gradualmente il digiuno ma molto gradualmente ok eventualmente si procederebbe così chiaramente prima si pensa a portare il corpo a un livello tale da poter sostenere l'impresa se no l'impresa non si fa ok vale per tutti vale per tutti ok e questa cosa chiaramente poi si personalizza il percorso si cerca di comprendere con che velocità introdurlo con che cadenza introdurlo eccetera eccetera e che tipologia di digiuno introdurre ad esempio è possibile che magari il tuo corpo il digiuno secco non riesca a sostenerlo subito magari c'è bisogno di introdurre prima un digiuno idrico ok e quello lì piano piano in funzione essenzialmente della della persona e come risponde il corpo quindi lì si vede step by step ok grazie niente andiamo avanti allora cosa fa il digiuno fa tutto io come dico come dico io fa anche le patatine fritte quindi depura rinnova i tessuti apoptosi autofagia quindi praticamente selezione delle cellule malate per mandarle via l'apoptosi è una morte cellulata programmata nel senso il corpo dice scientemente tu sì tu no tu sì tu no ok in modo ordinato preciso ma ciò che non funziona viene buttato ok e il reset ormonale e metabolico una cosa che vi posso dire se avete visto io qua non ho messo il dimagrimento ok in realtà perché non l'ho messo intanto perché sono stufa che il digiuno venga considerato soltanto come un mezzo per dimagrire ok perché in realtà se è vero che in digiuno si può dimagrire anzi si dimagrisce sicuramente è anche vero che è un piacevole effetto collaterale di un corpo che si sta disintossicando e si sta disinfiammando e ovviamente prendere il digiuno soltanto con lo scopo di dimagrire in realtà crea dei fanatismi che io odio ok che portano poi le persone a sentirsi male e a dire che è colpa del digiuno e io questa cosa io chiaramente dato che lo uso regolarmente a scopo terapeutico chiaramente io ne sono assolutamente contro quindi qua il dimagrimento non l'ho messo ma sappiate che col digiuno si può anche dimagrire con le due regole ok tipi di digiuno qui voglio scalfire questa qua considerate che è l'ultima diapositiva praticamente tipi di digiuno voglio scalfire con questa diapositiva tutti quelli che dicono del digiuno cose diverse da quello che leggerete su questa diapositiva ok i tipi di digiuno sono solo due con acqua senza acqua chiunque vi dica dovete prendere sali minerali dovete prendere bibitoni dovete prendere tisane dovete mettere acqua e limone dovete potete continuare a prendere i farmaci le integrazioni durante il digiuno e cose varie non è vero ok tutte le cose che non siano l'acqua pura ok in realtà interrompono i processi naturali di progressione attraverso le singole fasi del digiuno ok quindi compromettono l'efficacia del digiuno non esistono altri digiuni al di fuori di con acqua e senza acqua e basta per quanto riguarda in realtà come avevo detto questa qua praticamente era l'ultima diapositiva e tra l'altro appunto abbiamo poi tutto il pezzo delle domande io vi suggerisco per approfondire due libri questi qua sono tutti i libri che ho scritto io ma quelli che vi suggerisco in particolare per introdurvi al digiuno in modo consapevole è supervivere nel ventunesimo secolo che è questo qui che ho scritto a quattro mani con un mio collaboratore nel quale noi praticamente abbiamo messo insieme tutti gli strumenti compreso il digiuno chiaramente ma anche tutti gli strumenti che servono a sostenere un corretto andamento del nostro corpo attraverso il digiuno e il digiuno secco di sette giorni che è il digiuno diciamo termoterapeutico per eccellenza in modo da conoscere tutte le potenzialità del digiuno lo potete trovare sul mio shop che si chiama mondoimmunoreica.com attualmente è in revisione però segnatevelo che nei prossimi giorni dovrebbe essere messo online e quindi eventualmente potete prenderlo e ora io vi chiedo ci sono domande? Salve, buonasera Salve io volevo solo chiedere questo io adesso sto facendo il digiuno intermittente perché mi hanno detto che siccome sono diabetica devo comunque prendere la metformina alla sera anche se non mangio ok mi hanno detto che chi è diabetica non dovrebbe fare il digiuno ok è vero? non è vero? allora l'assolutismo per l'assolutismo che chi è diabetico non può fare il digiuno ti dico non è vero per il fatto che c'è bisogno di una gradualità nell'introduzione sì ok quindi in realtà se tu ti volessi approcciare un digiuno più lungo dovresti farlo più gradualmente ok in modo tale che il tuo corpo magari all'inizio inizia a come si dice a stabilizzare la glicemia in modo tale che magari hai bisogno di meno metformina o magari puoi allungare magari saltare anche una dose senza che va in crollo il corpo piano piano quindi tu introduci il digiuno prima con la funzione di ridurre la necessità della metformina e una maggiore stabilità della glicemia nel corpo e poi piano piano allunghi e lo porti a scopo terapeutico ok grazie Rossella per la domanda e Vanna buonasera volevo chiedere una cosa visto che non si possono introdurre farmaci in questo caso o si viene seguiti da un medico in particolare oppure se ci sono dei centri dove uno può andare a praticare il digiuno però essere seguito insomma o conviene magari grazie allora io allora io sto aprendo un centro del genere nel quale ospitare delle persone e poterle seguire seguo anche per chi ha meno problemi chiaramente più il problema è grande più deve essere seguito da vicino la persona chiaramente però in realtà in una fase iniziale si può fare da casa ok soprattutto per i digiuni un po' più brevi diciamo il digiuno di svezzamento mettiamola così ok quindi il passaggio che ne so dai 5 pasti ai 3 dai 3 ai 2 quant'altro si può fare a casa ok poi quando si comincia a intaccare magari la frequenza del farmaco quindi magari appunto si deve allungare tanto il digiuno per cui il farmaco magari salta una dose e quant'altro magari quello lì si fa gradualmente ok e piano piano comunque io come vi ho detto sto cercando di creare una struttura nella quale ospitare e poter seguire diciamo ad persona ok di questo buonasera buonasera grazie mille molto illuminante io sto facendo chemioterapia per un tumore al quarto stadio del pancreas e mi hanno detto segui una dieta da diabetica da subito e il mio omeopata diciamo che è un uomo saggissimo di riferimento mi ha detto digiuno insomma stai facendo la chemio non è il caso di dare questa botta in più al corpo quindi lui me l'ha consigliato la linea che ho iniziato a maggio si chiama full fox che contiene oxaliplatino come antitumorale principale non ho tanti disturbi non vomito non ho diarrea ho solo un po' di neuropatia a mano e piedi oltre alla debolezza e volevo sapere se appunto la via del digiuno per me è accessibile oppure mi devo mantenere in forza e continuare le cure allora questa risposta purtroppo Carla non ho abbastanza informazioni per poterti dare una risposta specifica per te questa cosa lo dico con il cuore quello che ti posso dire è questo nel caso di chemioterapia ci sono dei modi di affiancare il digiuno proprio in modo tale che la selezione cellulare che avviene nel tuo corpo perché la chemio vada a uccidere specificatamente soltanto le cellule malate e lascia in pace le cellule sane ok quindi si può abbinare ora chiaramente io nel tuo caso non so quanto è debilitato il tuo corpo ok non tanto direi che sono abbastanza una bomba atomica ok ok allora si potrebbe pensare a introdurre chiaramente sempre in modo graduale per vedere come risponde il tuo corpo e come lo percepisce e quant'altro e poi se si va si va ok se il corpo risponde bene si va si prova insomma assolutamente grazie grazie mille grazie bravissima super chiara brava grazie Maria Pia eccomi volevo sapere leggendo il libro o altri libri ho letto anche quello di Walter Long si può fare da soli e quali sono le indicazioni concrete cioè almeno diciamo a fine di prevenzione che però abbia un effetto terapeutico di disintossicazione allora allora Maria Pia ottima domanda allora in uno dei due libri che vi ho suggerito specificatamente in Supervivere nel ventunesimo secolo ok noi parliamo del digiuno diciamo da intermittente ai tre giorni quel tipo di digiuno per soggetti che comunque non stanno male ok per soggetti che non sono farmacologizzati e che non hanno problematiche gravi in realtà può essere fatto tranquillamente in casa e in autonomia ci sono tutte quante le regole ok proprio in fila ok cosa fare per entrare in digiuno cosa fare durante il digiuno cosa fare in uscita dal digiuno ok come si possono utilizzare i digiuni eccetera eccetera quindi c'è scritto tutto quanto ok però quello che vi dico è solo ed esclusivamente se non avete malattie conclamate gravi ok perché chiaramente poi lì bisogna fare tutta una serie di valutazioni che appunto bisogna ad esempio la signora che pesava 39 kg per dire se fa una cosa del genere in casa ok potrebbe avere dei problemi ok o persone che magari hanno dei farmaci salvavita che dicino ah fatto il digiuno di tre giorni e per tre giorni non prendono questi farmaci salvavita non è detto che il corpo sia pronto a stare senza ok quindi bisogna fare una cosa graduale ok quindi bisogna essere consapevoli del proprio stato di salute perché nel digiuno questo qui diciamo più esteso di tre giorni bisognerebbe interrompere anche i farmaci tipo la chemioterapia io faccio la nastra zola ogni giorno allora nel caso della chemio nel caso della chemio io uso un approccio diverso nel quale praticamente faccio fare il digiuno durante la somministrazione della chemio ma è proprio un approccio diverso perché praticamente così andiamo vabbè poi dipende da che tipo di chemio è se tutti i giorni e cose varie in realtà ci sono talmente tanti tipi di chemio per esempio c'era una mia la mia paziente che lo faceva tipo ogni due settimane lei faceva un digiuno senza chemio un digiuno praticamente intorno alla chemio iniziava faceva la chemio e terminava poco dopo quindi diciamo in modo tale che la chemio comunque cadessa all'interno del digiuno è così e comunque è stato estremamente protettivo della cosa però chiaramente è una cosa che va fatta soggettivo soggettivo perché ad esempio c'è gente che in chemio vomita tanto associare il digiuno alla chemio potrebbe essere importante perché magari l'intruzione dei cibi aumenta di nuovo ancora di più il vomito quindi in realtà poi lì ci sono tante considerazioni che vanno fatte proprio a ciascuno ok ma quando parliamo di digiuno parliamo proprio di assenze di assunzione di cibo o solo determinate ore nell'arco del 24 no quando parlo di digiuno terapeutico ok parlo di digiuno di digiuno quando parlo di un giorno di digiuno due giorni di digiuno tre giorni sette giorni e cose varie parlo di digiuno completo dall'inizio alla fine ma c'è un minimo di ore che potremmo fare io per esempio faccio quello intermittente dalla sera alle 19 e 30 fino alle 10 la mattina a volte anche le 10 e mezza quindi sono quelle 14 15 ore quello è troppo poco non vale vi ho fatto vedere nello schema no? vi ho fatto vedere ok è troppo poco sì a scopo terapeutico è troppo poco per lasciare rilassare un po' il corpo va sempre bene ok cioè ogni cosa è qual è lo scopo che io voglio che voglio trarre da quello che faccio ok se vuoi soltanto rilassare un attimo il corpo perché magari ti senti congestionata anche dai farmaci che stai prendendo che ti senti lo stomaco appesantito e lo lasci un 15-16 ore va bene ma che quello poi ti possa aiutare a attivare i processi di guarigione no non ce la fa ok io volevo fare una domanda ogni cioè quante volte va fatto questo digiuno una volta all'anno due volte all'anno quale quale digiuno il digiuno quello che ha spiegato lei quello con tutte le fasi quello che può arrivare fino a 15-16 ore se sei in prevenzione se lo fai una volta l'anno una volta ogni due anni va bene se devi lavorare su una malattia già in essere ok si vede come risponde il corpo come risponde la malattia e cose varie e si sceglie una cadenza ad hoc fino a che chiaramente non si porta in remissione non è mai una cosa soggettiva certo e quando per agganciarmi la domanda che aveva fatto l'altra l'altra persona siamo in cura con quei farmaci noi oncologici abbiamo 5 anni di farmaco da prendere tutti i giorni contro gli estrogeni o quale altro questi si può fare con l'assunzione di questi farmaci oppure no allora no semplicemente lo fai sospendi per un giorno il giorno che fai il digiuno non lo prendi ma il digiuno però ha detto che di un giorno non è sufficiente quando lo devi fare allora quando lo devi fare allora io presumo che se tu prendi i farmaci per gli estrogeni in realtà il tumore in prevenzione stai evitando cercando di evitare le recidide esatto ok esatto quindi il tumore non c'è ecco io sto partendo quel presumo questo non lo sappiamo in realtà potrebbe esserci è quello che ci dicono allora se noi siamo e vabbè lì siamo nel mondo del non lo so io purtroppo non lo so andiamo nel concetto che hai combattuto il tumore il tumore in remissione stai prendendo gli estrogeni per evitare che ritorni ok e vuoi utilizzare il digiuno per diciamo aggiungere un pezzettino in più di protezione ok in quel caso un digiuno di un giorno e mezzo poi lo vedrete quando leggerete il libro ne avete ben contezza nel digiuno di un giorno e mezzo ok vuol dire che tu salteresti una dose ok a settimana ok però tutto il resto poi tu te lo prendi ok e questa cosa però aumenta le potenzialità ma è una cosa che si fa sempre gradualmente non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina cioè quando ci sta l'assunzione regolare di farmaci salva vita ok in realtà va fatto gradualmente perché bisogna vedere sempre come risponde il corpo soprattutto all'inizio chi ha fatto chiami ha fatto radio ha il corpo molto intossicato quindi vanno fatti tutta una serie di passaggi di pulizia intermedi preliminari eccetera eccetera quindi le cose vanno fatte proprio passo 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 però è anche vero che appunto un giorno un giorno e mezzo di digiuno a settimana ok potrebbe fare una grande differenza nel percorso ah ok perché avevo capito che invece doveva essere un periodo più lungo per poter attivare questo processo allora per evitare le recidive va bene per andare a curare il tumore c'è un tumore che sta ancora là ok un giorno e mezzo gli fa il solletico cioè non dovresti fare talmente tanti di questi digiuni che è possibile che non riesci a scalfirlo ok sì sì chiaro grazie niente invece per evitare le recidive o le metastasi potrebbe bastare un giorno un giorno e mezzo a settimana ho capito bene di digiuno secco e quant'altro poi chiaramente dipende da cosa mangi pure tra un digiuno e l'altro ok cioè in realtà la cosa la cosa che mi fa tanto ridere alcune volte quando le persone fanno i digiuni i riparatori ok tipo quando uno si va a confessare a messa fanno il digiuno mi sono ammazzato faccio il digiuno ok in realtà quando si tratta di prevenzione bisogna anche pensare a che cosa si mangia tra un digiuno e l'altro perché sennò il digiuno da solo non può andare a tamponare tutti i danni che noi facciamo tra un digiuno e l'altro cioè non è così quindi in realtà lì bisogna pensare a proprio un percorso alimentare digiuno e quant'altro e diciamo che poi si mantiene tutto stabile ok Peter buonasera buonasera mi chiamo Cristina senta io sono affetta la mia loma multiplo in questa fase smoldering cioè io sono quasi due anni che ho scoperto questa malattia che è quiescente in questo momento asintomatica e faccio controlli ogni tre mesi e il digiuno potrebbe andare bene io faccio in questo momento il digiuno intermittente ma ho capito che serve un po' per l'organismo ma per la malattia non serve siccome la mia malattia risulta non guaribile mi chiedevo se il digiuno va bene per ogni tipo di tumore se potrebbe andare bene anche per la mia patologia ecco allora il digiuno va bene per tutte le malattie del corpo ok le malattie della mente anche tra parentesi poi dipende da come lo intendi e cose varie però in realtà sulle malattie del corpo va bene per tutto le uniche considerazioni che vanno fatte quelle due che abbiamo fatto all'inizio a che punto sono e quante energie sono le uniche due grandi considerazioni noi teniamo abbiamo diciamo contezza di queste due considerazioni sappiamo che abbiamo sufficienti energie non siamo arrivati con un piede nella fossa e l'altro qua ok allora si può ok quella frequenza che diceva prima un giorno a settimana potrebbe essere un giorno dipende dipende tutto dipende tutto io vi dico questo vi dico che cosa faccio io e io non ho ancora niente io faccio le corno ogni volta che lo dico perché male non fanno anche quelle salvano io faccio così a parte digiuno intermittente tutti i giorni cioè nel senso per me non esiste il terzo pasto ve l'ho detto no il terzo pasto non dovrebbe esistere digiuno intermittente tutti i giorni poi lo faccio un giorno e mezzo di digiuno a settimana ok e lo faccio dal dal 2018 ok da 12 agosto 2018 io faccio un giorno e mezzo di digiuno a settimana poi lo faccio tre giorni di digiuno tre giorni e mezzo faccio sempre in mezzo perché parto sempre da sera e termino la mattina quindi c'è sempre questo mezzo ballerino ok tre giorni e mezzo di digiuno ogni due tre mesi ok e poi quando ci scappa ok diciamo che una media di un digiuno di 5 barra sette giorni di digiuno l'anno ok e io non sto male e io non sto male cioè nel senso io lo faccio allo scopo di evitare di stare male ok vi ricordate i topini il digiuno funziona meglio prima che non dopo ok quindi io lo faccio allo scopo di stare male ma perché perché in realtà noi poi magari appunto vi invito ad andare sul mio canale youtube immunoreica nel quale ho caricato anche la vecchia presentazione che ho fatto per voi ok nel quale dico noi siamo soggetti costantemente a stimoli negativi H24 non ci possiamo distrarre se noi ci distraiamo gli stimoli continuano non è che dici ah vabbè ma tanto non è che me frega mentre noi non ce ne frega niente questi stimoli continuano e continuano e continuano ok siamo proprio immersi immaginate come se fosse un brodo ok di stimoli negativi nel quale noi siamo immersi e noi dobbiamo in qualche modo combattere quindi o stiamo perennemente in ansia ok o diventiamo ipocondriaci oppure uno strumento del digiuno ti garantisce vedi il tuo polini ok che anche se ti arriva uno stimolo negativo il corpo riesce ad affrontarlo in modo efficiente ok io ti dico meno di quello che faccio non lo consiglio a nessuno ho detto digiuno intermittente tutti i giorni un giorno e mezzo di digiuno a settimana tre giorni e mezzo ogni due tre mesi e un giorno di un digiuno di cinque sette giorni l'anno ok questo qua è il minimo che faccio io che sto bene quindi a tutto il mondo io dico meno di questo non lo consiglierei ok questa è l'unica cosa che vi posso dire nel digiuno intermittente sacrifica la colazione oppure la cena allora io preferisco sacrificare la colazione proprio per indole ho meno fame a colazione poi la cena mi piace condividerla con la famiglia in realtà alcune volte per dire ad esempio in questo periodo ho avuto difficoltà magari a fare il pranzo quindi io saltavo e mangiavo soltanto la cena perché mi svegliavo già a caldata perché nella notte non sfiammava il pomeriggio era ancora caldo non riuscivo a fare pranzo mangiavo soltanto la cena ma quello lì dipende molto da come mi sento io sono molto istintiva ok comunque meno diciamo non meno di 16 ore al giorno di pausa ok grazie niente Vanna sì chiedevo ma si riesce a lavorare con facendo sì allora sì sì si riesce a lavorare allora il discorso è questo quanto sei abituata a farlo ad esempio io adesso ti posso dire che ho fatto qualsiasi cosa durante il digiuno io quando faccio gli eventi in digiuno magari quelli più lunghi ok io sono in digiuno insieme ai miei pazienti io sono l'organizzatrice dell'evento finisco che sto un po' che ogni tanto mi si impasta la lingua magari ogni tanto dico qualche festeglia dicono scusate un attimo mi si è connesso il neurone un po' storto per cose varie riformulo la frase però ci sta cioè io guido lavoro preparo da mangiare per la famiglia viaggio io faccio tutto in digiuno anzi 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 io utilizzo il digiuno anche per evitare di mangiare schifezze fuori esempio se sono in viaggio l'alternativa è fermarsi all'autogrill a mangiare una schifezza in digiuno fila pure più dritto il viaggio perché non ti devi fermare neanche a fare pipì perché se non bevi non ti scappa neanche la pipì quindi arrivo prima ok mi evito tutti quanti gli intramezzi nell'autogrill diciamo che lo utilizzo anche in modo diciamo preventivo dal punto di vista dello sgarro o di contingenze magari un po' così ho visto volante una domanda che dice se si può fare attività fisica durante il digiuno assolutamente sì si può fare attività fisica le attività fisiche vanno bene vi sconsiglio l'attività fisica sotto al sole soprattutto se fate il digiuno secco ok perché chiaramente perdete tanti liquidi e rischiate poi essere un po' troppo disidratati attività di enduranza durante il digiuno non vanno bene vanno bene attività tipo corsa a scatti passeggiate magari un po' di pesistica ma che dura metti due ore al massimo dopodiché chiudete ok potete fare yoga durante in realtà l'attività fisica base va bene non sport di enduranza quindi tutti quanti quegli sport molto lunghi tipo maratone triathlon e cose varie quegli sport lì no grazie vanno benissimo grazie grazie Sevil mi chiede cosa ne penso del digiuno yogico Sevil mi potresti dare un po' di parametri del digiuno yogico che così ti posso dire cosa ne penso praticamente in base alle parti lunari sì da casi no aspetta non ho capito scusami vi siete sovrapposte perdonatemi non ho sentito niente viene fatto penso due o tre volte al mese in base alla fase lunare quindi qualche giorno prima della luna piena oppure qualche giorno prima della luna nuova ok e viene usato come insomma per purificarsi e insomma alla fine del digiuno ha caratteristiche ma fatto l'associazione alle fasi lunari ha delle caratteristiche particolari questo digiuno che io sappia non cioè che no io so solo questo del digiuno ok ok no no per capire se c'era altre caratteristiche allora discorso fase lunare tendenzialmente secondo me largo circa sulla base di quello che so non è secco ok vabbè ma intanto quello lì dipende molto anche dalla psicologia del soggetto quindi diciamo che non è necessariamente necessario fare per forza secco allora noi associamo i digiuni lunghi sempre alla alla luna piena quindi a luna crescente e luna piena in realtà la fase di luna crescente e luna piena sono sempre più potenzianti il digiuno rispetto alla luna calante e luna nuova questo è quello che so del digiuno sì sono brevi rispetto a quello che dice lei durano faccia conto una giornata ecco 24 ore più o meno e io l'ho quasi sempre seguiti insomma sempre bevendo acqua e anche delle tisane che però adesso lei ha detto che che non sono contemplate ecco no per essere un digiuno vero vero no digiuno terapeutico se con uno scopo terapeutico e quant'altro bisogna eliminare qualsiasi cosa che non sia acqua ok ora nel mio caso io adesso ho fatto una mastectomia e ancora devo aspettare l'istologico ho fatto le kadashi che sarebbe il digiuno iogico l'altro giorno così senza nemmeno così in modo molto intuitivo intuito che mi poteva farmi bene ok e niente ora in questa fase prima di sapere che cure dovrò fare io continuerei insomma ma mi consiglio allora il digiuno è sempre meglio farlo che non farlo a parte nelle condizioni estreme nel quale appunto il corpo non ha le risorse ma quello lì è un altro paio di maniche ok ma se uno sta bene diciamo è meglio farlo che non farlo diciamo come si dice nel dubbio è meglio farlo ok sì non di più ogni giorno ma il tempo limite quanto può essere cioè potrei fare più di un giorno anche allora non conoscendoti non mi posso sbilanciare come ho detto diciamo viene consigliato non più di tre giorni in ambiente casalingo ok ok va bene grazie la differenza tra il digiuno secco e quello con l'acqua qual è il digiuno secco non si beve acqua non si beve non si beve e non si mangia come fanno i musulmani per 40 giorni eh sì però loro mangiano soltanto mentre poi si mangiano poi invece quando noi facciamo noi non mangiamo non mangiamo mai cioè nel senso se noi facciamo tre giorni di un musulmano poi cioè da un passo il digiuno e l'altro poi si sfonda è vero la notte la sera diciamo sì è come come i musulmani però senza l'interruzione del cibo in mezzo e invece bevendo c'è qualche svantaggio allora uno svantaggio pratico veramente grosso è che bisogna farsi i clisteri ogni tanto per pulire l'intestino cosa che invece nel secco non sono necessari l'altra cosa è che il secco è molto più più veloce perdon scusatemi molto più veloce del librico quindi vuol dire che ogni giorno di digiuno secco equivale a tre giorni di digiuno idrico quindi se uno ha difficoltà a stare tre giorni senza mangiare se lo fa secco già con uno è come se ne avesse fatti tre quindi diciamo che taglia un po' il tempo la cosa del digiuno secco è che in realtà l'aumento della temperatura corporea è intracellulare è estremamente elevato per cui praticamente le cellule diventano veramente delle fucine per le tossine all'interno all'interno delle cellule stesse e quindi praticamente aiuta proprio a eliminare proprio tutti i residui ad esempio delle terapie farmacologiche e quant'altro è molto più efficace questo questo rispetto al digiuno idrico Rosaria che ho visto che hai la mano alzata da un botto di tempo eccomi non riuscivo a togliere il microfono buonasera buonasera allora io avrei due domande vabbè una più o meno già ha risposto cioè quindi un giorno diciamo che può anche bastare come digiuno terapeutico per iniziare giusto? iniziare sì poi dipende dal problema specifico allora per un problema conclamato lo ripeto un giorno e mezzo è troppo poco ok un problema conclamato un problema in remissione è da valutare però io già vi ho detto qual è la mia routine di digiuno e io obiettivamente non lo consiglierei a nessuno meno di quello che faccio io ok lo faccio io non ho problemi sicurati se lo devo consigliare di meno a chi ha problemi non mi azzarderei mai ok e un'altra domanda è come possiamo sapere se possiamo farlo cioè in che fase in che momento siamo come facciamo a sapere lì si ci sono tutta una serie a parte che io imposto tutta la consulenza in modo tale da fare tutta una serie di domande preliminari una serie di analisi vedere anche come sta la persona comunque durante il colloquio vedo pure a livello psicologico come va ok il rapporto peso peso altezza ad esempio è fondamentale cioè chiaro che se sono troppo magri prima porto il corpo ad avere le risorse ok diciamo che quello lì è un fattore molto complesso che io ti dico nel senso se uno è una persona dice sto bene mi sento in forza e cose varie ok ce l'hai ok quindi lo puoi fare persone che appunto già sono farmacologizzate magari da due tre quattro dieci anni eccetera eccetera diciamo che un percorso preliminare di avvicinamento graduale al digiuno sarebbe meglio ok quindi lei fa anche consulenze assolutamente sì sia singole diciamo sia ritiri di digiuno diciamo collettivi ok weekend e poi appunto nella struttura che sto mettendo in piedi per far venire le persone che hanno bisogno di digiuni più lunghi per dargli la possibilità di venire quando possono essenzialmente perché in realtà io prima facevo un ritiro di digiuno l'anno però è anche vero che se c'è una persona che ha bisogno di un percorso un po' più articolato una volta l'anno rischia di essere troppo poco e quindi sto portando in piedi la struttura per accogliere diciamo in modo regolare ecco mettiamola così e dove sarà questa struttura? vicino a Ivrea ok praticamente al confine con la valle d'Aosta l'ambiente è stato scelto apposta perché deve essere fuori un po' da tutto non può essere in mezzo alle zozzerie che ci hanno fatto ammalare chiaramente cioè ci deve essere proprio una rottura di schema ok ok grazie per tutto niente a te ma è qualcosa di simile a quello che fa Berrino con la Grande Via? allora io non conosco la Grande Via di Berrino io diciamo che Berrino lo conosco soltanto per il suo approccio filovegano alimentare che è al di fuori di quello che è la mia linea ok e per il resto il discorso di Giuno non l'ho mai seguito perché non non è un filone ufficiale cioè nel senso lui non non è un maestro di Giuno ecco quindi diciamo che io ho sempre cercato dei maestri diciamo dei divulgatori specifici di ogni settore che io ho abbracciato e quindi diciamo che sono andata addirittura in Russia a cercarlo quindi non conosco l'approccio di Berrino mi sembra che abbiamo finito le mani non sono più alzate si pare anche a me no guarda l'unica cosa si che nella chat chiedevano se c'era possibilità di avere qualche esempio di guarigione in che senso cioè persone che allora io ne ho ne ho diversi cioè nel senso il discorso è questo che cosa si intende per guarigione intanto prima cosa cioè la guarigione non è sempre quello che noi ci aspettiamo cioè la remissione completa da ogni male che in realtà non esiste perché siamo in equilibrio tra salute e malattia ok ma in realtà la remissione è la capacità del corpo di gestire il problema questa è in realtà la cosa ora esempi di remissione se no di problemi gastrointestinali importanti problemi ormonali importanti ok gente che ha tolto i farmaci ormonali facendo il digiuno persone che hanno avuto la remissione dal marmo di Crohn che hanno avuto remissione dall'RCU ok persone che hanno approcciato al digiuno in chemioterapia e praticamente erano venuti da me che facevano la chemio che stavano male 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 non si reggevano più in piedi approcciando con il digiuno alla chemio sono ovviamente riusciti ad affrontare la chemio senza avere quel crollo verticale energetico che che avevano avuto prima ok poi io vi dico una cosa e qua ammetto che un po' mi scende la lacrimoccia nel dirvelo il problema è che c'è poca costanza nel fare le cose il digiuno non è un one shot il digiuno è una cosa che bisogna è la goccia che scava la roccia e molte persone dopo un po' si stufano di farlo e il problema è che se vi stufate di prendervi cura di voi stessi quello che succede è che qualsiasi cosa non è magari la malattia che avete attualmente ma magari è un'altra che subentra ma alla fine prende il sopravvento cioè il digiuno è una autoconsapevolezza e quindi questa cosa qui io vi posso dire che ho avuto persone che sono state molto meglio facendo il digiuno e che hanno smesso comunque di farlo e poi piano piano sono ripeggiorate non facendolo e io su questo si chiama libero arbitrio non posso fare niente io ve lo dico sono sei anni che lo faccio ok ogni settimana ogni settimana senza se senza no e non ho patologie ok e non ho intenzione di averne per quanto un giorno la domanda mi ha lasciato un po' basita e poi ho detto aspetta un attimo che non so risponderti ti rispondo tra un po' e lui mi ha chiesto ma tu che cosa faresti se scoprissi di avere un tumore che domanda pesante poi non avevo una risposta lì per lì poi ho detto in realtà ci ho pensato e ho scritto tra l'altro anche un posto sul facebook ho detto ecco il mio paziente mi ha chiesto questa cosa e dico se vi dicessi che se io avessi un tumore in realtà io dovrei rivedere tante delle mie convinzioni perché io sto facendo tutto per evitare che il mio corpo abbia delle malattie degenerative quindi in realtà vuol dire che c'è un qualche cosa che io ancora non ho capito di quello che bisogna fare per stare bene e quindi andrei ulteriormente alla ricerca del perché è accaduto ok tant'è che io dico sempre ai miei pazienti voi dovete sempre sperare che io stia sempre bene perché perché io faccio tutto quello che vi dico quindi se io facendo quello che vi dico continuo a stare bene sono la prova vivente che quello che vi dico fa bene ok diciamo che io testo tutto cioè nel senso io non sono armiamoci e partite cioè non sono una che dice una cosa e ne fa un'altra cioè se io dico ai miei pazienti che sgarro io sgarro cioè io lo dico ragazzi non è che se voi non mi vedrete mai sgarrare non è vero ok cioè io faccio quello che dico ok quindi diciamo che l'idea è quella di di essere portavoce di uno stile di vita di un'idea di una consapevolezza ok quindi in realtà io quando vi dico vi do una risposta è il minimo che io chiedo ai miei pazienti io vi dico nessuno dei miei pazienti fa tanti digiuni quanti ne faccio io e quasi tutti i miei pazienti ok il mio il mio protocollo si chiama immunoreica ok perché è rivolto a tutte le persone che hanno problemi del sistema immunitario ok quindi tutte le persone a cui mi rivolgo sono persone che hanno dei problemi e nessuno fa tutto quello che faccio io che non ho problemi quindi in realtà c'è un problema e che non è il protocollo non è il digiuno non è l'alimentazione e manca la consapevolezza del di quanto impatta l'ambiente su di noi e di quanto in realtà noi non possiamo distrarci non possiamo dire ah vabbè ma allora tutti i giorni devo stare attento sì esatto diciamo che è un po' come la politica no che è quella cosa che se non ci pensi comunque è lei che pensa a te la stessa cosa sono i problemi gli stimoli negativi sul corpo anche se tu non ci pensi quegli stimoli continuano ad arrivare quindi noi dici ah vabbè ma chi se ne frega no cioè devi essere consapevole di che cosa impatta sul tuo corpo e che cosa genera sul tuo corpo quell'impatto ok e che cosa devi fare poi ah vabbè ma si può fare di meno e ancora di meno e ancora di meno ma puoi anche non fare niente poi il risultato sarà quello che è ok quindi non posso darvi delle soprattutto per quanto riguarda guarigioni importanti purtroppo non ho delle casistiche numerose perché ho pochissime persone che si sono messe in gioco così tanto quanto sarebbe stato necessario io ho sempre detto ai miei pazienti ragazzi cioè state facendo troppo poco rispetto a quello che servirebbe al vostro corpo faccio più io non è possibile non posso fare più io rispetto a voi se faccio più rispetto a voi vuol dire voi non state facendo abbastanza vi racconto un aneddoto che mi ha fatto soffrire quindi diciamo che tutte storie vere una mia paziente viene da me con un inizio di tumore al seno ok ancora in tempo eh poteva fare tutto ok lei gli ho impostato è venuta a fare i ritiri di digiuno a cadenza quando gli pareva eccetera eccetera mangiava una volta bene cento male eccetera eccetera dopo un anno mi manda un messaggio mi manda un messaggio che il tumore era diventato più grande dopo nove mesi che non la vedevo ok e io gli ho detto mi dispiace dico tu sei arrivata un anno un anno fa da me e un anno fa avevi molto più le carte in regola per riuscire a vincere questa cosa che non adesso perché hai perso un anno di tempo che senso ha queste sono le storie che vi posso raccontare che sono storie di esseri umani che si scontrano con la propria vita con la paura con le difficoltà con la famiglia che sta a fare ma che sei scema ma quella è una matta perché gli da retta ok quindi queste qua sono le storie che vi posso raccontare so però di storie che vengono dalla Russia di persone che veramente ad esempio sono state sono guarite dagli effetti di Chernobyl grazie al digiuno tutte documentate sono chiuse nella madre Russia queste sono le storie poi ho persone che per dire non riuscivano a prendere peso grazie al digiuno sono riusciti a sbloccare e a prendere peso badate prendere cioè persone appunto gravemente sotto peso che grazie al digiuno sono riuscite a recuperare le loro forze ok e altre persone ad esempio che avevano difficoltà nelle evacuazioni ok che hanno risolto grazie al digiuno perdite di feci 15-20 volte al giorno liquide ok non potevano uscire di casa non avevano una vita essenzialmente e mangiando bene dedizione attenzione e quant'altro la goccia che scava la roccia hanno conquistato la loro vita altre domande non c'entra molto con l'argomento di questa sera mi chiedevo se il digiuno possa aiutare anche le persone autistiche allora sì sì avevo fatto una battuta che tutte le cose del corpo ma anche quelle della mente il digiuno le poteva guarire dovete sapere che il digiuno secco è stato portato in auge appunto in Russia proprio a seguito di una osservazione fatta da un medico che seguiva un sanatorio i sanatori sapete che cosa sono sono i come si dice i manicomi ok e praticamente si era accorto che i pazienti quando stavano male avevano della febbre e cose varie smettevano di mangiare e se non si forzavano a mangiare praticamente alla fine della febbre di tutta la fatica del corpo essenzialmente praticamente riducevano drasticamente l'assunzione di farmaci e l'accesso a turbe psichiche diciamo per le quali erano stati internati rispetto a quando non avevano fatto il digiuno ok quindi diciamo che in realtà si lavora anche sulla mente ma in realtà non esiste un sistema corpo senza un sistema mente quindi assolutamente si il digiuno può migliorare anche quell'aspetto lì ok ma come fai a fare entrare nella testa di una persona autistica sto parlando di una ragazzina adesso facevo no aspetta se si parla di bambini è molto più difficile quanto si parla quanti amiamo parlavo proprio di una bambina perché appunto lei si è diventata si avrà 12 anni però è molto più piccina degli anni che ha allora il discorso il discorso è questo ritorniamo al discorso di a che punto siamo e che energia abbiamo ritorniamo lì dalle considerazioni base essenzialmente nel caso di una bambina io ti posso dire diciamo rispetto ad esempio a mio figlio mio figlio ha 14 anni e fai conto che lui quando è influenzato io l'unica cosa che faccio lo metto in digiuno ok l'ultima volta per la prima volta in vita sua l'influenza ci ha impiegato un po' più di tempo ad andarsene via e allora l'ho per vi che è costretto ad un digiuno ok però lui non lo voleva fare cioè lui stava protestandolo mi sono messa accanto a lui sono stata tutto il tempo insieme a lui a fare il digiuno insieme a lui ok quindi in realtà lì soprattutto quando si tratta di bambini parra ragazzi ragazzini comunque ancora quasi adolescenti ecco facciamo così andiamo fino a verso l'adolescenza il discorso è legato al fatto che devono compartecipare il momento non possono essere lasciati da soli a fare il digiuno sennò si sentono abbandonati ovvio che ci deve essere la complicità dei genitori però mi chiedevo appunto devono fare il digiuno anche i digiunitori certo ok io quando ho iniziato il percorso di nutrizionista che in realtà come vi ho detto l'ho iniziato prima per la mia famiglia prima che per i miei pazienti e tutto il resto praticamente una cosa una regola che c'è sempre stata in famiglia era all in vuol dire tutti dentro quindi è chiaro che non è che se la persona è costretta a fare il digiuno e a mangiare in un certo modo tutti gli altri poi gli mangiano la pizza in faccia mentre questo sta in digiuno non esiste anche no non esiste soprattutto se si tratta di bambini gli adulti anche perché anche loro soffrono non è che gli adulti perché sono grandi non soffrono ok però i bambini in più quindi questo è quello che ti posso dire si può fare sì è molto faticoso sì cioè io ho dovuto fare il digiuno secco insieme a mio figlio l'avevo appena uscita sono stata costretta a rientrare per farlo con mio figlio perché mio figlio non lo voleva fare ok mi sono messa lì e cose varie quindi si chiama no non si dice sto facendo una battuta scurrile quindi non lo dico va bene così e comunque è faticoso è faticoso soprattutto con i più piccoli va bene grazie di niente mi piacerebbe tanto aiutarla questa bambina perché veramente i genitori vogliono i genitori vogliono aiutarla i genitori non ci capiscono niente di cibo infatti ho cominciato a dire ho cominciato a togliere per cominciare perché loro dicono certi giorni è tranquilla e io dico mi sono a fare un diario di che cosa mangia quando è tranquilla cominciamo da lì è quello allora il problema dei bambini sono dei genitori io lo so punto quindi diciamo che se i genitori non sono pronti il bambino doveva scegliersi altri genitori ma non è che non sono pronti il problema è che comunque loro vengono guarda che guarda che non è facile mettere no ma che contro la misura guarda che ah ecco no perché guarda che io sono tutto difficile no perché quando parli con un medico andare a raccontare queste cose ti fa una risata in faccia non è scema ma io ai miei pazienti io gli dico non gli dite troppo ai medici perché sennò ve li pigliano per pazzi e chiamano pure la neuro quindi voi dovete fare dare quelle giuste informazioni che servono senza troppe cose perché sennò poi impazziscono entrano entrano male vi racconto questo visto che parlavamo di guarigioni del digiuno c'è una mia paziente che è che è in dialisi ed è voluta venire a fare il litio di digiuno secco dice in dialisi con i reni in vacca viene a fare il digiuno secco cose varie è venuta a fare il ritiro di digiuno secco appena è arrivato gli ho dato una bottiglia ho detto guarda tu qualsiasi cosa senti tu inizi a bere non è che stiamo a giocare a speriamo che ce la capiamo lei ha finito tutte le 42 ore di digiuno secco si è fatto tutto quanto il ritiro perfetto senza bere una goccia d'acqua durante il digiuno cose varie lei aveva il digiuno noi di solito lo terminiamo la domenica lei lunedì aveva le analisi non me l'aveva detto me l'ha detto soltanto quando me l'ha mandata dice le analisi migliori di sempre dico quando le hai fatte il giorno dopo del digiuno ma tu sei matta dico tu hai fatto le analisi subito dopo il digiuno nel senso se andavano in vacca i medici ti legavano alla dialisi e facevi dialisi perenne praticamente dice no sono rimasti stupiti perché in realtà sono le analisi migliori di sempre da quando mi sono ammalata non ho mai avuto analisi così belle in seguito al digiuno quindi in realtà è scardinare dei diktat dati da non si sa da chi gli studi dicono quali studi quali se ci sono tutti quanti tutti gli studi parlano bene del digiuno quindi non si sa quali sono gli studi che dicono che questo digiuno fa male ok eppure gli studi dicono che il digiuno t'accoppa non è vero ok quindi giusto per farvi capire che in realtà io ne ho di esperienze di cose gente che per dire dice ah senza cistifelle non si può fare il digiuno io ho pazienti senza cistifelle che fanno il digiuno senza problemi persone che hanno problemi gastrici fanno il digiuno anzi gli migliorano i problemi gastrici quindi ci sono tutta una serie di credi che i medici tra l'altro cercano di scavare questo credo cioè nel senso non è che aiutano il paziente magari ad essere critico verso la cosa eccetera eccetera no cioè nel senso ah no quello fa male e vi dirò no 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 fa male fa male ok quindi assolutamente ti credo Michelino figurati ma guarda io credo che a volte il nostro corpo è più intelligente di noi come dico a mia nipote come dico a mia nipote quando va a mangiare il sushi e poi ha la diarrea dico vedi che il tuo intestino è più intelligente del tuo cervello ma non ti capisci niente perché di cibo proprio zero assolutamente sì è vero è vero è vero non lo so perché di questo tuo corpo ogni volta che vai a mangiare il sushi ti porta in bagno il giorno dopo c'è qualcosa che non quadra fatti una domanda e datti una risposta eventualmente è così è così è così tutte le difficoltà della vita reale cioè nel senso negli studi quando gli studi dicono non mi che si scontrano con questa roba qua gli studi infatti ho detto ragazzi gli studi sono belli perché sono fatti a tavolino sono semplici sono puliti poi quando ti metti di fronte alla realtà nuda e cruda ti si apre il vado di Pandora però noi oggi siamo veramente bombardati da scelte strane nel senso che anche per quanto concerne il tumore e chi la racconta in un modo e chi la racconta in un altro e chi la racconta in un altro ancora noi siamo un po' diciamo contente di sapere però nel contempo si va un po' in crisi perché dici ma qual è la strada giusta allora io vi dico qual è la strada che ho trovato io io ti dico anche Michelina che la strada giusta la strada giusta non esiste ci sono le strade giuste perché per ciascuno di noi in base alla predisposizione in base al punto in cui noi partiamo ok le energie che abbiamo a disposizione il contesto sociale l'ambiente in cui ci troviamo ok ci sono risposte diverse io ho trovato questa strada qua è una strada che ho visto che funziona fa star bene aumenta la coscienza e la consapevolezza delle persone e io porto avanti questa ok poi è chiaro nel senso se ne sono tante di strade ma devi vedere anche che cosa è compatibile con te per dire ad esempio io divulgo un'alimentazione strettamente carnivora per chi è vegetariano non va bene però magari può approcciare al digiuno mantenendo la propria alimentazione vegetariana per dire ok quindi in realtà la strada la strada giusta non esiste esistono una strada giusta per ciascuno di noi ok tant'è che appunto il mio protocollo non è un protocollo che è proprio tutto quadrato è un protocollo diciamo estremamente dinamico ok che proprio serve proprio a strutturare proprio dall'inizio alla fine la consapevolezza appunto del punto in cui si parte dello step 1 dello step 2 le considerazioni da fare ok grazie mille niente è molto tardi se no andremo andremo avanti ancora a piacchierare speriamo di avere estela ancora sì 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 adesso poi fissiamo un'altra data per settembre mi mancava la parte psicologica giusto uh sì ma poi chiaramente fatte tutte e tre poi dobbiamo riprendere tutto quanto perché chiaramente qua ce n'abbiamo di roba da dire mica abbiamo finito dai allora dai ti ringrazio ma di niente Sibilla grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille